Buonasera, tra poco inizia Accordi e Disaccordi, siamo in diretta 21.34, avete sentito le notizie, c'è stata l'incursione di terra delle truppe israeliane dentro la striscia di Gaza, appena tenuto una conferenza stampa il Premier Netanyahu, ci sarà Marco Trovaglio naturalmente col passaparola perché parleremo di guerra ma parleremo anche di politica italiana e poi ci sarà Andrea Scanzi ovviamente, ci sarà Carlo Verdone, Italo Bocchino, Barbara Alberti, Vittorio Feltri, dovete restare con noi, siamo in diretta, tantissime le notizie appunto di cui parlare e seguiremo minuto dopo minuto quello che sta accadendo, le drammatiche immagini della striscia di Gaza, una guerra che è al buio in questo momento, non ci sono connessioni internet, non sappiamo niente di quello che stia accadendo, però staremo informati, seguiremo le notizie, rimanete lì perché è una puntata intensa, molto importante e ci vediamo tra pochissimo, rimanete lì perché inizia Accordi e Disaccordi in prima serata. Buonasera, bentornati ad Accordi e Disaccordi, siamo in diretta, sono le 21.40, gli ospiti di stasera saranno Italo Bocchino, Barbara Alberti, Carlo Verdone e Vittorio Feltri, parleremo naturalmente di ciò che sta accadendo nella striscia di Gaza, lo seguiremo in diretta, ma parleremo anche di politica interna e poi cercheremo anche, se sono momenti difficili, di strappare un sorriso a voi telespettatori con Carlo Verdone, ci saranno naturalmente Marco Travaglio e Andrea Scanzi. Cominciamo vedendo queste immagini che sono un po' il riassunto di un'escalation dal 7 ottobre ad oggi, vediamo. E' con noi Marco Travaglio, ed è con noi il direttore del Secolo d'Italia Italo Bocchino. Ad entrambi, prima di iniziare il dibattito, vorrei far vedere delle immagini che arrivano da New York, dalla Grand Central, la stazione, e un'associazione di ebrei ha manifestato per la pace. Guardate queste immagini. Cantano no armi e no guerra, però oggi il premier Netanyahu ha tenuto una conferenza stampa dopo che le truppe sono entrate nella striscia di Gaza e ha detto, la guerra sarà lunga e dura, vincere o cessare di esistere. Come commenti? Purtroppo è un déjà vu. Io ho appena finito di scrivere la storia a puntate di Israele e dei palestinesi sul fatto che adesso stiamo trasformando e ampliando in un libretto con cartine tutto quello che c'è da sapere in poche parole. Quando Israele ha combattuto con l'esercito, altri eserciti, ha sempre vinto. Quando ha combattuto con l'esercito il terrorismo, ha sempre perso. Voleva combattere il terrorismo dell'OLP di Arafat in Libano nell'82, un disastro. Voleva combattere il terrorismo di Hezbollah con l'esercito nel 2007, con la seconda guerra libanese ingaggiata da Olmert, un flop clamoroso. A Gaza Israele è entrato sette volte negli ultimi vent'anni con il risultato che ogni volta che usciva Hamas era più forte di quando c'era entrato. È proprio un problema mentale, credo, che sta obnubilando la mente delle classi dirigenti israeliane che, come abbiamo detto più volte, non hanno più uno statista da quando quel maledetto Ictus ha colpito Sharon, che era tutt'altro che una mammoletta, ma aveva lucidità. Il terrorismo di Gaza è un nemico invisibile che si combatte con l'intelligence, con l'astuzia, con i blitz mirati, potenziando e non devastando i servizi segreti come ha fatto Netanyahu. Per cui l'unico risultato sarà un massacro che, anche se non ha lo scopo della vendetta collettiva, come l'ha definita l'ONU, ne ha le forme. Perché quando tu colpisci e addirittura invadi un territorio, la striscia di Gaza è grossa, meno di un decimo della Valle d'Aosta. Cioè immaginate la Valle d'Aosta che è piccolissima, la riducete a più di un decimo e quella è la striscia di Gaza. Ma lì ci abita la popolazione della Calabria, cioè 2 milioni e 300 mila persone. Quindi anche se lanci uno spillo sei sicuro di colpire qualcuno e quel qualcuno, nel quasi 50% dei casi, è un bambino o un ragazzino, perché il 45% degli abitanti di Gaza hanno meno di 14 anni. Certo, nel mucchio puoi anche colpire qualcuno di Hamas, qualche simpatizzante, anche qualche affiliato di Hamas. Ma Hamas ha i capi all'estero, in Qatar e in Siria e gli effettivi locali nei sotterranei. Essendo dei macellai vergognosi, usano sia i 250 ostaggi, sia la popolazione civile come scudi umani. Ma quella è una trappola. Israele di solito le tende le trappole ai nemici, non casca nelle trappole dei nemici. Ogni volta che ha combattuto il terrorismo con l'esercito è cascato, prima nella trappola dell'olp, immischiandosi in quel casino della guerra civile libanese nell'82. Poi nella trappola di Hezbollah, che non è riuscita a smantellare, anzi è rafforzato, pare che siano diverse centinaia di migliaia i terroristi di Hezbollah che dal sud del Libano bombardano con razzi a missili il nord di Israele, cioè la Galilea. E ha rafforzato Hamas, involontariamente, ma anche volontariamente, perché sappiamo benissimo che Netanyahu ha addirittura rivendicato in riunioni del suo partito Likud, che per indebolire l'ala moderata dei palestinesi, cioè Abu Mazen e l'OLP, bisognava rafforzare Hamas, perché tanto lui diceva io controllo l'altezza delle fiamme. Pensava di bruciare Abu Mazen e i palestinesi moderati e si sta bruciando lui, ma soprattutto sta bruciando tante vite innocenti, perché in queste tre settimane di rappresaglie, prima ancora di entrare con le truppe ieri, Israele ha ammazzato 7 mila persone, di cui 3 mila bambini. Allora, Italo Bocchino, Travaglio dice che l'ingresso delle truppe è un ingresso alla cieca perché i capi di Hamas non sono lì, si rischia di fare il numero di vittime civili che diceva poc'anzi e Biden l'ha detto a Netanyahu, non commettete l'errore che abbiamo fatto noi dopo l'11 settembre, che è proprio quello di entrare in uno Stato sovrano, in una popolazione e alla ricerca dei terroristi si inviettono tante vittime civili. Tu cosa pensi? Il ragionamento di Travaglio in teoria è lineare, però dimentica un paio di cose. La prima cosa è che quello che sta accadendo è frutto di due debolezze, da un lato la debolezza dello Stato di Israele perché Netanyahu è oggettivamente debole, dall'altro la debolezza dell'autorità palestinese perché Abu Mazen è oggettivamente debole, quindi è la politica che ha perso e prendono il sopravvento che cosa? Da una parte prende il sopravvento un'organizzazione terroristica che va condannata senza se e senza ma, solo che in Italia viene condannata per il 50% con tanti se e con tanti ma e questa è una cosa su cui dobbiamo fare una riflessione. La seconda ragione è che Netanyahu sicuramente è uno di grandissima debolezza, un politico con una grandissima debolezza ma stiamo parlando sempre di un premier, di una democrazia che è l'unica democrazia peraltro del Medio Oriente e non dobbiamo dimenticare quando parliamo di queste cose che Hamas ha fatto un attacco, ha sferrato un attacco ad Israele, Israele era lì tranquilla senza rompere le scatole a nessuno, ha decapitato dei bambini, ha decapitato anche dei feti addirittura, una cosa che io almeno non avevo diciamo contezza di una cosa così cruenta nella storia dell'umanità e quindi cioè prima di giudicare quali sono gli errori di Israele che sono tantissimi ovviamente, noi dobbiamo porci un problema e questa è la vera domanda che dobbiamo porci. Travaglia ha scritto una storia molto molto bella sul fatto quotidiano, puntate sulla storia del conflitto, ma il vero tema è Israele ha diritto ad esistere o no? Questa è la vera domanda che ci dobbiamo porre, perché sembra quasi che Israele non abbia diritto ad esistere. Voglio capire chi è che lo nega? A parte naturalmente Hamas, ma chi è che lo nega in Italia? Tutti i paesi arabi è una parte della pubblica opinione occidentale. Ma no. Addirittura? No. Non so, Travaglio è un rispetto di me nel Medio Oriente. Nel 1948, nel 56, nel 67 e nel 73, le quattro guerre arabo-israeliane, tutti i paesi arabi negavano il diritto a esistere di Israele, l'OLPD era fatto, lo negava e si proponeva di distruggerlo. Poi nel 78 c'è stato l'accordo di Can David, l'Egitto ha riconosciuto Israele e hanno intrecciato relazioni diplomatiche. Poi la Giordania, nell'84, ha riconosciuto Israele e ha intrecciato rapporti diplomatici. Quei nefasti accordi che Trump ha propiziato e che si chiamano accordi di Abramo nel 2020, hanno visto il Bahrain, gli Emirati Arabi, il Sudan e il Marocco riconoscere Israele e avviare relazioni diplomatiche. Quindi non c'è più, per fortuna, l'intera lega araba contro Israele. Se poi andiamo a vedere, sappiamo bene che nessuno dei vicini c'è Hamas, scusa Travaglio, no no no, scusa, stiamo parlando di cose diverse. C'è l'Iran, c'è l'Iran, c'è Zbollah, c'è la Jihad istamica, c'è Hamas, voglio dire c'è un pezzo di mondo che vuole distruggere Israele e questo è il vero problema. Cioè noi dobbiamo partire dal presupposto che Israele ha diritto di esistere perché è stata messa lì, non a caso, dalle Nazioni Unite con un voto democratico. Dopodiché Hamas è un'organizzazione terroristica, cioè da una parte abbiamo un'organizzazione terroristica, da una parte lo Stato democratico. Lo Stato democratico ha diritto di difendersi di fronte ad un'organizzazione terroristica che l'aggredisce. Ha diritto, lo dicono le norme internazionali, ma lo dice anche il buonsenso. Adesso il punto qual è? Dobbiamo evitare che i civili ne paghino le conseguenze, ma il vero tema è quello di evitare un'escalation. Purtroppo l'ingresso a Gaza non ha portato bene per tante volte e adesso bisogna capire che cosa accadrà perché da un lato c'è l'Egitto che sostiene ovviamente i palestinesi, ma dall'altra parte chiude la frontiera perché non li vuole, non ha nessuna intenzione di caricarsi il problema palestinese. La Giordania non ha nessuna intenzione di caricarsi il problema palestinese. Il vero problema è perché questi stati della Lega Araba bloccano sostanzialmente l'ingresso ai palestinesi, chiudono le frontiere molto peggio di quanto accusate Meloni e Salvini di voler bloccare le frontiere italiane e allo stesso tempo li sostengono? Per una semplice ragione, perché hanno un odio nei confronti di Israele e un odio nei confronti dell'Occidente. Noi non riusciremo a fare passi avanti nel dibattito pubblico e nella diplomazia se non si parte dal presupposto che Israele ha diritto di esistere e che tutti coloro che cercano di colpire Israele quale stato sovrano commettono un crimine contro l'umanità. Non dobbiamo mai dimenticare che Israele è la patria di quel popolo che ha subito il più grande orrore della storia dell'umanità che è stata la Shoah. Quindi pensiamoci prima di criticare quello che fa Israele. Allora però ha ragione Bocchino dicendo che c'è una parte del mondo che non riconosce il diritto di esistere ad Israele, però c'è anche una parte del mondo che riconosce il diritto di Israele ad esistere, però contesta le scelte di un governo. All'interno della Nato c'è il premier turco Erdogan che ha detto Hamas liberatori non terroristi e oggi in una conferenza stampa ha aggiunto che Israele sta commettendo crimini di guerra. Ricordiamo che è membro della Nato. Ma quando dice che Israele sta commettendo crimini di guerra dice la verità. Quello che è inaccettabile è la prima parte, cioè quando Erdogan legittima, esalta Hamas dopo il pogrom di 1400 ebrei del 7 ottobre. E quello è il nostro alleato e ce lo portiamo dietro e nessuno ha il coraggio di dirgli accomodati alla porta. Perché? Perché la politica estera non si fa con la morale, la si fa con l'utilità, quello è il principio, l'utilitarismo, non il moralismo. Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente, vero, ma questo non è che lo esime dalle responsabilità di quello che fa, anzi le aumenta, perché io dall'Iran non mi aspetto un grande rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. Da Hamas certamente no, da Hezbollah non me lo aspetto, da una democrazia me lo aspetto. Quindi criticare Israele non vuol dire criticare il diritto all'esistenza dello Stato ebraico, vuol dire criticare le scelte del suo governo, così come le criticano i giornali israeliani, metà della popolazione che per 40 settimane è scesa in piazza tutti i giorni contro le controriforme di Netanyahu sulla giustizia e sull'ordine pubblico e significa richiamarlo al rispetto delle regole che esistono persino in guerra. Se io ho un vicino di casa che tutti i giorni mi spara, non è che per difendermi raduo al suolo l'intero quartiere dove quello vive, perché così spero di beccare anche lui, perché quello si chiama eccesso di legittima difesa. È esattamente quello che sta facendo Israele per prendere alcuni, ha ammazzato già 7 mila persone, di cui 3 mila bambini e quindi deve rispondere di crimini di guerra, perché in tre settimane è riuscito a fare tante vittime civili, quante la guerra in Ucraina scatenata da Putin non è riuscita a fare nel corso di diversi mesi. Quindi stiamo parlando di cose sotto gli occhi di tutti, nessuno nega il diritto di Israele a esistere e a difendersi, ma questa roba qua non c'entra niente con la difesa. Questa roba qua rende Israele indifendibile, tra l'altro è incredibile come Netanyahu che il 7 ottobre era il premier di un paese aggredito dai terroristi con cui tutto il mondo, salvo rarissime eccezioni, solidarizzava, è riuscito in tre settimane a far passare Israele dalla parte della ragione alla parte del torto, dal ruolo di Davide al ruolo di Golia. È una responsabilità gravissima, ma io sono preoccupato per il dopo, perché abbiamo già visto questa scena, non è la prima volta che Israele entra a Gaza, ci è entrato sette volte negli ultimi vent'anni e ogni volta Hamas era più forte e se anche Hamas sparisse, al posto di Hamas potrebbe arrivare qualcosa di peggio di Hamas, perché è vero che Hamas ha un'ala terroristico militare che si chiama Brigate Al-Qassame che sono responsabili di mattanze, la più grave delle quali è quella del 7 ottobre, ma ce ne sono state prima, ma Hamas è anche un partito, è un partito organizzato sul territorio, è un gruppo sociale. Guarda che questo non vuol dire giustificare quello che fa Hamas, vuol dire domandarsi come è stato possibile che l'OLP che ha rappresentato i palestinesi dal 64 nel 2006 perdesse le elezioni contro Hamas. Siamo stati noi a dirgli dovete diventare democratici. Sharon si è ritirato da Gaza, fondate il vostro Stato e autogovernatevelo in Cis Giordania, ve ne diamo un pezzo, poi ve ne daremo un altro pezzo, poi ve ne daremo un altro pezzo. Governatevi, fate le elezioni, questi hanno organizzato delle libere elezioni, talmente libere che chi le ha organizzate, cioè Abu Mazen, le ha perse. E chi ha vinto Hamas? La domanda è perché la maggioranza degli elettori della Cis Giordania è in gran parte di Gaza, anziché l'OLP ha scelto Hamas, perché l'OLP è corrotta, perché l'OLP è troppo molle e perché sembra collaborazionista con gli israeliani, ma anche perché Hamas ha conquistato un consenso. Come si fa a togliere il consenso ad Hamas? Perché prima o poi, se si riprende il percorso due Stati per due popoli, bisognerà che anche nello Stato palestinese si voti. E come si fa a evitare che rivotino per Hamas o per qualcosa di peggio? Bisogna comprarseli, detto volgarmente. Bisogna investire per farli stare bene, per farli mangiare, per dargli lavoro, per non rendergli la vita impossibile a fare la gincana tra le colonie israeliane e per superare il muro che divide i territori palestinesi da quelli israeliani. Soltanto facendoli stare bene, con la pancia piena e con un lavoro e con un futuro, questi la smetteranno di affidarsi ai tagliagole di Hamas. Se non capiamo questo e pensiamo che noi sconfiggiamo Hamas bombardando i civili, non ci rendiamo conto che stiamo portando proprio l'acqua con le orecchie ad Hamas. Stiamo portando elettori affiliati e simpatizzanti. Hamas non è mica nato adesso, è nato nell'87 con la prima intifada. Quante volte abbiamo detto combattiamo Hamas? L'abbiamo favorito. Anche perché a metà della popolazione della striscia di Gaza è nata dopo le elezioni, durante le elezioni di Hamas, hanno 18 anni. Senti Bocchino, però una cosa, l'Italia si è astenuta dalla risoluzione ONU che chiedeva il cessato del fuoco. L'ha votata la Francia, l'ha votata la Spagna. Noi ci siamo astenuti e la Premier ha adotto come giustificazione il fatto che è la posizione più equilibrata. Ma c'è equilibrio nel non chiedere cessare il fuoco? Quella risoluzione, Luca, aveva un piccolo problema. Intanto non ci siamo astenuti soltanto noi, ma si è astenuta anche la Germania, ad esempio. Ma quella risoluzione aveva un problema che non condannava gli ecili, i massacri, dei tagliagole di Hamas del 7 ottobre. Questo è uno dei punti fondamentali. Non può esistere una risoluzione di un organismo internazionale che non parta dal fatto che quello che ha fatto Hamas il 7 ottobre è un atto terroristico gravissimo che va condannato e va anche combattuto. Dopodiché Travaglio, che è un esperto molto più di me di politica medio orientale, ma molto più di me di tantissime altre cose, dimentica una cosa che, voglio dire, la logica riferita alla soluzione che si può trovare per quell'area è solo una, quella di tornare al punto di partenza del 1947. Due popoli, due stati. Solo che gli ebrei l'hanno fatto il loro stato. Hanno fatto lo stato di Israele. I palestinesi hanno negato sempre la volontà di dar vita al loro stato. Hamas non vuole che nasca lo stato palestinese perché vuole continuare ad essere un'organizzazione terroristica. e anche la popolazione di Gaza e tutta la popolazione della Palestina, compresa la Cisgiordania, non è che è allineata alle posizioni di Hamas. Anzi, comincia a soffrire, secondo i sondaggi che sono stati rilevati recentemente, a soffrire questa posizione di Hamas che, dando vita ad una guerra santa, sostanzialmente mette a repentaglio la vita dei civili. Cioè, il problema vero è che è Hamas che mette a repentaglio la vita dei civili. Cioè, proprio sbagliata l'ottica, l'obiettivo. Non è Israele che mette a repentaglio la vita dei civili. C'è del vero. È Hamas che mette a repentaglio la vita dei civili con i suoi atti. Qui c'è del vero. Cioè, Hamas con i suoi atti. Ho detto prima. Quelli stanno nei sotterranei e espongono. Hanno addirittura una base sotto un ospedale. Quindi lo sappiamo. Ha fatto bene o male ad astenersi sulla risoluzione dell'ONU per il cessato di fuoco? Secondo me ha fatto male. Perché in quella risoluzione, che peraltro non è vincolante perché è dell'Assemblea, non è del Consiglio di Sicurezza, ammesso che ci sia qualcosa di vincolante quando arriva dall'ONU. Purtroppo non sembra. Come dice Crozza, l'ONU è come Fratoianni, non se la fida nessuno. Ma in ogni caso, sarebbe stato un bel segnale votare insieme alla Francia e la Spagna per il cessato di fuoco. Perché quella non era una risoluzione che doveva condannare o meno. Quella era una risoluzione che chiedeva una cosa concreta. La condanna del pogrom di Hamas, l'ONU, l'ha fatta quando c'è stato il pogrom di Hamas, tre settimane fa. Adesso si chiede una tregua. La tregua vuol dire cessare il fuoco. Cessare il fuoco vuol dire tutti. Certo. Hamas, in queste tre settimane, ha sparato 7.000 razzi contro Israele, a dimostrazione del fatto che non l'hanno affatto indebolita, ammazzando 7.000 civili. E sta continuando a sparare. E sta continuando a sparare in perterrita. Quindi, cessare il fuoco vuol dire cessare il fuoco tutti, non solo Israele, se no è cessate mezzo fuoco. Perché cessare il fuoco? Per la ragione che diceva Bocchino. Perché Hamas alza i civili a Israele e Israele li cecchina. Non si può andare avanti così. Perché? Perché l'unico che si avvantaggia Hamas e gli unici che ci perdono sono i civili. E Israele si scredita una volta di più. Perché? Perché non ottiene il risultato sperato e continua a fare vittime civili. Ma io lo so, è talmente chiaro. Scusa Marco, posso farti una domanda? Sì, rapidamente. Posso farti una domanda. Manca un minuto, sì. Ma secondo te Israele che cosa dovrebbe fare? Porgere l'altra guancia? No, ma assolutamente no. Io l'ho detto fin dal primo giorno, se esistesse una soluzione anche cruenta che garantisce che domani mattina prendono tutti i capi di Hamas e li ammazzano come hanno fatto che ne so. Ma guarda, i capi di Hamas in questo momento stanno mangiando caviale, bevendo champagne in Qatar, fottendosene delle regole islamiche e stanno facendo uccidere come scudi umani donne e bambini sulla striscia di Gaza, nella striscia di Gaza. Bene, non ammazziamo gli elettroni noi che siamo democratici. Stiamo parlando di delinquenti, terroristi, di delinquenti. No, ma guarda, nessun civile deve essere ucciso se non è coinvolto in atti terroristici. Se uno è coinvolto in atti terroristici, si può estirpare Hamas senza mettere tante vittime civili? Perché non è che li riconosci, non hanno una giacca specifica. Ma il problema è che fai le vittime civili senza estirpare Hamas. Questo è quello che sta succedendo. Il problema è molto serio. Come si fa? Il problema è molto serio perché da un lato la conformazione della striscia di Gaza lo consente poco. Appunto. Perché come diceva Marco prima, sai, sono organizzati con delle basi sotto gli ospedali, quindi sai, c'è poco da fare. Dall'altro c'è da dire che i capi stanno in residenze dorate in paesi produttori petrolifici ricchissimi che mangiano caviale e bevono champagne. Quindi questo è il vero problema. Allora il tema è che cosa deve fare Israele? Allora, la debolezza di Netanyahu oggettivamente non aiuta. Non aiuta la debolezza di Netanyahu perché lui deve dar vita ad una reazione che rischia di essere lambiosa. Telegrafico però. Io ho finito. Ah, finito. Va bene. Ho finito. No, no, va bene. Grazie Italo Bocchino di essere stato con noi. Grazie. Adesso Travaglio Travaglio resta qui perché tra pochissimo c'è il suo passaparola e parlerà della parentopoli all'interno del governo. A tal proposito però io vado a incontrare il prossimo ospite. Barbara Alberti Siamo in via della conciliazione ma parliamo di una separazione quella tra la presidente del consiglio Giorgio Meloni e il suo compagno. Una donna elegante e libera come te come giudica qui fuori onda che hai visto? E' come voi che li ludichi. Eh, dimmelo. Mi sembra che ogni tanto qualche maschio smaschera la realtà sull'Italia perché non è che sono tutti così voglio dire però esiste una fortissima lui sarà diventerà un piccolo eroe per tanta gente. Addirittura? Ah, ma secondo me sì. Ma scusa se così non fosse L'eroe di chi? Del bar? L'eroe di quelli che ascoltano la danzare che sono alcuni milioni perché non è che tutti i maschi sono così per bene come fanno finta di essere adesso. E' peggio ciò che ha detto o ciò che ha fatto? Perché ha messo le mani nei paesi bassi. No, era un'imperfetta concordia ciò che diceva ha avuto uno stile assolutamente omogeneo perché il gesto corrispondeva perfettamente anche perché non era un gesto né sexy né villano era un gesto nevrotico di uno che dice oddio ce l'ho ancora eh sì era un gesto anche molto comico e nel suo tempo drammatico accorato perché lo vedevi che si voleva assicurare continuamente oppure ricorderai gli altri ce l'ho anch'io ce l'ho anch'io cioè un maschio italiano tipico Tu sei diventi il compagno della Presidente del Consiglio e conduci un programma politico dove giudichi l'operato di lei Beh, bizzarro possiamo definirlo bizzarro Ma il cognato della Meloni è ministro la sorella è la capa di Fratelli d'Italia il compagno faceva il programma dove parlava di lei Dio, patria e famiglia le bandiere della destra molta famiglia Molta famiglia però finché la famiglia si mantiene in certi limiti voglio dire che fa il suo lavoro magari mi fido perché mia sorella è mio fratello mi fido ma quindi possiamo passarci sopra il punto è che uno di questi non è degno chi è l'indegno del gruppo? Beh, non è degno di questa fiducia e di questa parentela il nostro compagno poi mi dispiace sparare sulla Croce Rossa Lo assolvi o lo perdoni? Ma io non lo assolvo e non lo perdono penso che ce ne sono un milione come lui solo che lui l'abbiamo visto e soprattutto è la cosa veramente disgustosa è la mancanza di rispetto verso il ruolo della moglie Lui ha mancato di rispetto totalmente alla moglie e all'istituzione Grazie Barbara Grazie a lei Torno in studio Eccoci qua Le parole di Barbara Berti sono molto utili per introdurre il passaparola di Marco Travaglio di stasera perché parla proprio della parentopoli all'interno del governo Marco Travaglio Giorgia Meloni aveva promesso di sostenere la famiglia tradizionale perché lei è Giorgia è donna ed è madre e chapeau è stata di parola solo che purtroppo solo con la sua di famiglia che proprio tradizionale non è visto che Giorgia ha fatto una figlia con un compagno che non ha mai sposato e meno male che non l'ha sposato perché poi l'ha cacciato fuori di casa per i fuori onda Leo Longanesi diceva che nel centro della bandiera tricolore bisognerebbe iscrivere il vero motto nazionale tengo famiglia ecco più che sostenere la famiglia Giorgia Meloni piene famiglia dicono che lo fa perché non si fida dei suoi fedelissimi e fa benissimo visti i fedelissimi che si è scelta però si fida soltanto dei suoi parenti e fa malissimo visto i parenti che si ritrova diretti e acquisiti Giorgia ha una sorella Arianna che rischiava di essere penalizzata per il cognome che porta sapete i guai che può subire la sorella del presidente del consiglio in un paese meritocratico come l'Italia quindi cosa ha fatto l'ha nominata subito coordinatrice della segreteria di Fratelli d'Italia in pratica padrona del partito cosa che Arianna Meloni faceva già prima peraltro solo che quando Natangelo la disegnava nelle vignette lei querelava e lei e Giorgia strillavano dicendo ma ve la prendete con una privata cittadina adesso che hanno ufficializzato il suo ruolo in Fratelli d'Italia dicono bella forza l'aveva sempre fatto Arianna Meloni ha un marito Francesco Lollobrigida detto Gino anche lui rischiava grosso perché è imparentato con la Meloni i parenti della Meloni sapete che in Italia se la passano male quindi cosa hanno fatto l'hanno messo ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e dobbiamo ringraziarli per quella nomina perché Lollobrigida regala continuamente perle di saggezza di valore inestimabile per esempio i giovani che prendono il reddito di cittadinanza invece di stare sul divano vadano nei campi o in alternativa sposino la sorella della premier e diventino ministri anche loro oppure la sostituzione etnica un giorno ha tirato fuori sui migranti la sostituzione etnica Lollobrigida facendo felice il Ku Klux Klan poi ha capito di averla fatta grossa e ha sfoderato un alibi di ferro ha dichiarato alla stampa io non sono razzista sono ignorante che è una bella soddisfazione potrebbe essere anche il motto dell'intero governo altra perla i poveri mangiano meglio dei ricchi infatti alla Caritas non si trova un posto nemmeno a pagare ma Lollo una ne fa e cento ne pensa pare che sia stato proprio lui a segnalare al nuovo presidente della regione Lazio Francesco Rocca un amico come portavoce Marcello De Angelis che è un ex militante del gruppo neofascista terza posizione ma anche cantautore in una band fascio rock e giornalista che era stato il fidanzatino di Giorgia da giovanissima il cognato della Meloni che segnala il cognato mancato De Angelis ha tre fratelli uno è morto in carcere l'altro fa l'autore tv ed è stato anche lui fidanzato di Giorgia Meloni e poi c'è una sorella germana De Angelis che ha sposato Luigi Ciavardini chi è Luigi Ciavardini? è un terrorista dei NAR condannato per la strage di Bologna insieme a Mambro e a Fioravanti quindi i due ex di Giorgia cognati mancati di Lollobrigida sono cognati di uno stragista e quest'estate Marcello De Angelis da portavoce del Lazio ha fatto un tweet per difendere il cognato stragista dicendo che non è stato lui non è stata nemmeno la Mambro e nemmeno Fioravanti a compiere la strage di Bologna ne ho all'assoluta certezza disse polemiche a non finire poi lui però ha tenuto duro ha detto io sono pronto a pagare come Giordano Bruno cioè addirittura a farsi bruciare vivo poi però per salvare la poltrona si è scusato e ha detto che la sua unica certezza era il dubbio cioè la famosa assoluta certezza era un'assoluta incertezza tutto per salvare la poltrona ma non gli è bastato perché l'hanno cacciato prima di andarsene però il quasi cognato della Meloni segnalato dal cognato della Meloni e finito nei guai per avere difeso suo cognato terrorista è riuscito ad assumere nello staff comunicazione del Lazio chi? suo cognato un altro cognato Edoardo Di Rocco fratello della sua compagna un caso di cognatismo all'ennesima potenza come diceva Ennio Flaiano questo popolo di santi di poeti di navigatori di nipoti e di cognati e Leonardo Sciascia avvertiva tre C sono pericolose cugini cognati e compari infatti non c'è scandalo in Italia senza cognati quello di Craxi Pillitteri faceva il sindaco di Milano e poi è stato condannato per tangenti quello di Fini Giancarlo Tugliani gli fece avere dei guai per la famosa casetta di Monte Carlo quello di Fontana Andrea Dini forniva i camici ai tempi del Covid alla regione guidata dal marito di sua sorella quello di Renzi Andrea Conticini è imputato con i suoi due fratelli per una brutta storia di soldi portati via all'Unicef anche se adesso il PM ha chiesto la soluzione quello di Galliani che faceva il magazziniere al Milan fu arrestato per aver rubato delle magliette e poi fu assolto il cognato di Lotito Marco Mezzaroma già marito di Mara Carfagna e il nuovo presidente di Sport e Salute con cui il presidente della Lazio Lotito ha un sacco di debiti il cognato di Bertolaso Francesco Piermarini venne fuori dall'inchiesta sulla protezione civile che faceva incetta di appalti e in quell'inchiesta fu intercettato un imprenditore Diego Anemone che parlava con il provveditore alle opere pubbliche Angelo Balducci di due cognati il cognato di Bertolaso Piermarini appunto e il cognato di Rutelli Paolo Palombelli fratello di Barbara e si domandava oddio quanti ce ne sono di cognati ora tutti i cognati che ha la famiglia Meloni rendono inspiegabile un fatto perché il partito si chiama Fratelli d'Italia e non cognati d'Italia o sorelle d'Italia compagni 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 d'Italia non si può perché compagni fa tanto comunista eppure per un anno Giorgia Meloni ha avuto il suo compagno senza offesa Andrea Giambruno conduttore di un talk politico su Rete4 diario del giorno i giornali lo chiamavano il first gentleman poi abbiamo visto quant'era first e quant'era gentleman ogni volta che apriva bocca sparava una gaffe sembrava praticamente il capo dell'opposizione in clandestinità ha fatto più danni lui a Giorgia di tutto il centro-sinistra messo insieme naturalmente Giambruno doveva occuparsi ogni volta del governo presieduto dalla sua compagna e come se ne occupava parlandone bene ovviamente se ne parlava male quella lo inseguiva col mattarello gli cambiava le chiavi di casa e lo mandava pure in onda con un occhio nero o meglio parlava bene di Giorgia in onda perché nei fuori onda faceva il marpione con le colleghe una volta insultava il ministro del turismo tedesco un'altra volta negava i cambiamenti climatici un'altra ancora dettava il tutorial alle ragazze che vogliono evitare gli stupri se vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti ma se eviti di ubriacarti e perdere i sensi magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi infatti le ragazze sobrie non le violenta nessuno gli stupratori notoriamente preferiscono quelle che alzano il gomito forse per l'alito non si sa il dramma è che poi questo lattering lover si è fatto beccare da striscia alla notizia a parlare dei rapporti a tre dei rapporti a quattro con le colleghe di blu e storil e a tastarsi e trastullarsi il pacco che era uno dei suoi passatempi preferiti così il lupo l'ha trovato lui anzi la lupa perché lei l'ha messo alla porta che fosse ubriaco anche lui a saperlo sta di fatto che ha perso sia Giorgia sia Diario del Giorno a furia di fuori onda è finito fuori onda lui e purtroppo ce l'hanno portato via è andata così però ci resta Lollo Brigida che nessuno lo sospettava ma dei due era il parente furbo dicevamo che i Melones non sono una famiglia tradizionale però sono una famiglia molto allargata non bastava lei a Palazzo Chigi il compagno a Rete 4 la sorella a Fratelli d'Italia il cognato all'agricoltura c'è pure la segretaria di Lollo Brigida sta nella fondazione di AN con Arianna Meloni e poi c'è l'ex portavoce di Giorgia Nicola Procaccini ex sindaco di Terracina adesso eurodeputato di Fratelli d'Italia Procaccini ha anche una madre vogliamo lasciarla senza un posto no tra l'altro questa poveretta Maria Burani Procaccini stava già in alleanza nazionale la Meloni la promossa responsabile della consulta per il dialogo interreligioso qualunque cosa significhi Giorgia ha anche una migliore amica che si chiama Milca di Nunzio volevamo lasciarla col culetto scoperto ma assolutamente no consulente gratuita al Ministero dello Sport ma i parenti sono come di ciliegie uno tira l'altro Giorgia Meloni aveva un portavoce il giornalista Mario Secchi che però combinava un guai dietro l'altro era un incrocio fra Trafazzi e Fantozzi e infatti lei l'ha avviato l'ha fatto sistemare dalla famiglia Angelucci a direttore di Libero e ci ha messo al posto chi? Gian Battista Fazzolari Fazzolari lei stessa lo ha definito la persona più intelligente che io abbia mai conosciuto quindi figuratevi le altre questo Fazzolari fa anche il sottosegretario all'attuazione del programma ma visto che questi il programma non lo attuano anzi lo tradiscono ha molto tempo libero naturalmente come sottosegretario e quindi fa anche il portavoce Fazzolari però ha un lontano Pugino Calabrese che fa il medico chirurgo e stava per andare in pensione si chiama Rocco Bellantone l'hanno subito promosso capo dell'istituto superiore di sanità al posto di Brusaferro mai più senza un altro fedelissimo di Giorgio Edmondo Cirielli detto ex perché nel 2005 Berlusconi aveva preso una sua legge che voleva aggravare le pene per i recidivi e ci aveva infilato dentro una normetta che dimezzava i termini di prescrizione per i suoi processi Cirielli si era vergognato e aveva detto non chiamate la legge con il mio nome infatti fu chiamata ex Cirielli alla memoria adesso Cirielli detto ex è niente meno che vice ministro degli esteri e ha una fidanzata Maria Rosaria Campitiello che fa il medico ed è di Salerno poteva restare senza poltrone assolutamente no è il nuovo capo della segreteria tecnica del ministro della salute Orazio Schillaci ma Cirielli ha subito giurato è stata nominata per il suo curriculum ma anzi il fatto che fosse la sua fidanzata ha rischiato di danneggiarla come per Arianna Lollobrigida e tutti gli altri parenti che fanno una vitaccia tremenda dimentico qualcuno no non manca non manca più nessuno mancano solo i due leocorni e infatti speriamo che non si liberino degli altri posti perché la famiglia allargata dei Melons è finita è tutta piazzata a parte la madre che è troppo grande e la figlia che è troppo piccola a meno di andare a pescare gli zii o i cugini oppure i figli e le figlie di Sgarbi Sperminator che li ha disseminati in giro per l'Italia a decine e si è portato avanti e infatti ha già infilato nel suo staff al ministero della cultura la figlia della sua colfa della sua domestica poi adesso se non lo cacciano proseguirà come diceva il professor Sassaroli al Melandri in Amici Miei è tutta una catena di affetti che ne io ne lei architetto possiamo spezzare Marco Travaglio e guardate chi c'è collegato prosegue l'applauso Vittorio Feltri ciao Vittorio buonasera a tutti voi ciao allora allora ora c'è la pubblicità però dovete rimanere lì e ve lo ricordo tutte le settimane non toccate il telecomando se non cambiate canale ci aiutate molto dopo la pubblicità c'è Vittorio Feltri c'è Carlo Verdone c'è Andrea Scanzi ma dove andate state lì state lì cosa sono dove sono dove sto andando su quale pagina mi trovo quale universo chi sta guidando cosa sono dove sono dove mi state portando a quanti passi dal traguardo se resto ancora quanto ci perdo mani e lingua legati dai vostri soldati cervello telecomandato cervello telecomandato dalla tv di stato disobbedisco al sistema io non piego la schiena io no disobbedisco al sistema a questa messa e scena cosa sono dove sono quanto costa il mio tempo cosa stanno tramando per chi stiamo vivendo chi ci sta bombardando cosa sono dove sono qui si sta surriscaldando bruciano già i piedi onde alte dei metri ci stiamo estinguendo mani e lingua legati dai vostri soldati cervello telecomandato dalla tv di stato disobbedisco al sistema io non piego la schiena io no disobbedisco al sistema a questa messa e scena disobbedisco al sistema io non piego la schiena disobbedisco al sistema a questa messa e scena non ho mai capito perché tanto dolore questa rabbia ormai è una gabbia in cuore incluso il cuore deluso da ogni cosa che credevo giusta gettata nella spazzatura entrata tutta in una busta qua è tutto marcio dalla testa ai piedi solo se non vuoi vederlo non lo vedi quando ti sei reso conto che è tutto sbagliato è troppo tardi ormai hanno inventato un altro stato disobbedisco al sistema io non piego la schiena io no disobbedisco al sistema a questa messa e scena disobbedisco al sistema io non piego la schiena disobbedisco al sistema questa messa e scena è troppo tardi ormai è troppo tardi ormai è troppo tardi ormai c'è un'aria fredda che invade che invade l'ambiente la legna brucia ma non scalda per niente e non scioglie i discorsi e non resta speranza questa sera si parla ma non puoi capire seduti nella stanza ma felicità dov'è dove posso trovarla come posso io risolvere la confusione come posso domarla la delusione sveglia il nostro viso e anche ormai la notte un segno dentro inciso come inchiostro manca la realtà che ci ha sacrificato ma solo nel metà ma la felicità dove posso trovarla come posso io risolvere la confusione come posso domarla io non mollo non ho paura di essere diverso dalla massa non faccio il voglio almeno quando è in corso una matassa odio la rissa però la fissa per il mio orgoglio io non mollo non cerco comprensione non amo i complimenti e odio quando tutti stanno in fila sull'attenti col busto dritto ma la lingua tra i denti io non mollo io non mollo io non mollo io non mollo e aspetterò quel giorno in cui mi metteranno in lista per entrare anch'io e scendere in pista ballare fino a quando non finisce la festa finché non mollo io non mollo non mi hanno mai convinto le vostre ragioni quando dite che mi servono le raccomandazioni ma la musica non è per coglioni io non mollo ti chiedono soldi in cambio di successo ti portano ad x factor buttano nel cesso per qualche bella piotta avrò visibilità e quei cinque minuti di celebrità costretta a scrivere solo canzoni d'amore vuote la mia piuma incarcerata per ore pregherei un dio come nelle favole ma non posso credere di nuovo nelle favole ma non posso continued in ma non posso oggi non posso often ma non posso ma non posso ma non考ensare ma non how male ma nonatar ma月 ma non ma MILA ma avete Siamo fatti che non so descrivere Perché certe cose le devi vivere Siamo macchine da portare al limite Attimi da scrivere Siamo fatti di noi stessi e degli altri Quei contagi alti vedo a scatti Forse perché siamo fatti che si succedono Lo sai, lo sai, che ora guardo pure sky Lo sai, lo sai, che non moriremo mai Il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è Niente che ci faccia ragionare Il fatto è che non c'è Forse hai ragione te Niente che ci possa separare Il fatto è che non c'è Un fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è Forse è che non c'è, il fatto è che non c'è Un posto più bello di te Dove viaggiare Il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è Il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è Il fatto è che non c'è, 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 il fatto è che non Non moriremo mai, lo sai, lo sai. Lo sai, lo sai, lo sai. Lo sai, lo sai, lo sai. Lo sai, lo sai. Lo sai, lo sai, lo sai, lo sai. Lo sai, lo sai, lo sai. Lo sai, lo sai. e che la leva non aveva i, e che il caluse di Roma orì. e che il caluse di Roma orì, e che il caluse di Roma orì. e che il caluse di Roma orì, e che la leva non aveva i, e che il caluse di Roma orì. la barrappè e romana era su un'evasi emissi le beso colo e vede a ruta n'alpe e noi sonnele e tra utal e noz'nake a cresi legna a mai legna a mai colo 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 La notte non dormiamo mai Prima che arrivi l'aurora Stiamo a guardare esplodere Le luci del mattino Nel buio ci accarezzano Nel vuoto ci trasportano Dove non senti niente Niente ha senso neanche esistere Ma lascia andare quel pensiero All'alba da quel ponte nero Davanti il sole nasce in mezzo al pianto I binari del treno In modo anomalo ed assurdo Ci contentiamo ad aspettare Una felicità Ma il voto non arriverà Mi sembra che tutto sia finito È sempre stato tutto finito Non ha mai avuto un inizio anche ridere Solamente un altro vizio Usciamo e camminiamo senza meta Senza ascoltare le mie parole A volte hai ragione A volte hai ragione ma Le soluzioni non vengono da sole Ma lascia andare quel pensiero All'alba da quel ponte nero Davanti il sole nasce in mezzo al pianto I binari del treno In modo anomalo ed assurdo Ci contentiamo ad aspettare Una felicità Ma il voto non arriverà Mi sembra che tutto sia finito È sempre stato tutto finito Non ha mai avuto un inizio anche ridere Solamente un altro vizio Ma sappi che per te ho fatto tutto E lo rifarei altre mille volte Per ogni canzone Ed ogni pezzo del mio animo è per te E anche se non comprendi le mie scelte Dici che sono proprio egoiste Spero che tu faccia lo stesso Che tu riesca ad amare te stesso Mia! I mi sembra che ti dormi Che tutta la vita Che tutta la vita Che tu riesca a poter In modo amaro, da su fuori ci contentiamo ad aspettare una felicità Ma domani non arriverà E dai, che riaumentano i consumi delle caldaie E dai, che ritorneranno ancora i bonus vacanze E dai, sono promesse la ditanza a chi sceglie di stare dentro le proprie celle Sono permesse le carezze ma dipende dalle circostanze Dipende, forse dipende Da chi decide, chi sceglie Dipende, forse dipende Da quanto costa, quanto si spende Dipende, dalla curva si scende e da quanto si vende Dipende, dipende Dipende, se nessuno si offende C'è anche il numero verde E dai, Italia, e dai, gente Dipende Forse dipende, da niente Da sempre Dalla tua mente Dipende, c'è gente E non dipende, da niente C'è gente Che si difende, che si difende da sempre E dai, ha paura chi non è mai stato sulle faglie E dai, è dura Il mondo è pieno di battaglie Ma non vince la cultura E dai, e ci rimborsano i biglietti Torneremo nelle fogne sui traghetti Non crolleranno più ponti Ma faremo delle grandi muraglie tra i ghetti E dai, pagheremo gli affitti Con il bonus relitti Con i sogni interrotti E dai, torneranno gli abbracci Butteremo via i cocci E dagli, Italia, coi suoi mostri Dipende Forse dipende, da niente Da sempre Dalla tua mente Dipende, c'è gente Che non dipende, da niente C'è gente Che si difende, da sempre E dai, Italia, dai, gente Dipende Forse dipende Da niente Da sempre Dalla tua mente Dipende E dai, Italia, dai, gente Dai, Italia, dai, gente Ho bisogno di amare Non posso resistere a lungo così Mentre una coppia si bacia Ballando dietro di noi Mi guardi, sorridi Fai ciò che vuoi E sai esattamente cosa vorrei Una vodka lemon Con tanta vodka Un abbraccio profondo E tutto il rumore intorno a noi Ma stringimi la mano Anche senza un motivo Anche senza capire che Insieme noi due siamo supereroi Mi porti via lontano Senza un punto d'arrivo Senza sapere che da sempre Insieme noi due siamo supereroi Ho bisogno di andare Non ti riesco a decifrare Sussurri all'orecchio Troppe parole Ho il tormento dentro ogni spiegazione Il buio rapisce Il colore sparisce Ma cosa ti aspetti Se tutto finisce Tra le mani fredde Il casino di sempre Un passo all'indietro E non sento più niente Ma stringimi la mano Anche senza un motivo Anche senza capire che Insieme noi due siamo supereroi Mi porti via lontano Senza un punto d'arrivo Senza sapere che da sempre Insieme noi due siamo supereroi Ma in questo mondo spesso gli eroi Sembrano girare al contrario Non si distingue più cos'è Superfluo necessario Non darmi tempo se non ne hai Mi basta poco per intuire Che sono felice Quando restiamo insieme noi due Ma stringimi la mano Anche senza un motivo Anche senza capire che Insieme noi due siamo supereroi Ho bisogno di amare Ho bisogno di amare Siamo in prigione Sì, a colorare i muri E nella nostra mente Lanciano i siluri Per liberarci dai riflessi Non so più come fare Per risalire dal fondo Che non riesco a toccare Ho perso tutto Nel fondale marino Ma mi rimane la musica E qualche casino Ad accendere le notti Cerebrali A contare i miei stati Confusionali E vorrei tu fossi qui Per vedere che tutto Non va poi così male Vorrei averti qui Con me E chiederti scusa Quando l'odio mi assale Perché non voglio morire Perché non voglio morire più Perché non voglio morire più Cosa mi aspetto da me Perché mi sorprendo ancora Se agisco esattamente Come non vorresti te E penso ancora E penso ancora Alle passeggiate A via del corso Al biliardino Lungo il mare Mosso E vorrei E vorrei tu fossi qui Per vedere che tutto Non va poi così male E vorrei averti qui Con me E chiederti scusa Quando l'odio mi assale Perché non voglio morire più Perché non voglio morire più Ho qualcosa di sbagliato Profondo e complicato Che mi tiene appesa Memorie congelate Sento il cielo nelle ossa Ad agosto sotto il sole Quando San Lorenzo è vuota E tra silenzio e parole Tra discorsi e negroni Ci si scioccono i neuroni E giri un'altra cannetta Sono sempre la stessa Ma nessuno lo sa Nessuno lo sa Nessuno lo sa Che Vorrei ci fossi qui con me Che Vorrei averti qui Che Vorrei ci fossi qui con me Che Vorrei averti qui Con me Il mondo cambia Che servirà Che servirà un vaccino Per la rabbia C'è chi sta a casa E già si sente in gabbia Che crescono i seguaci Dell'impero Non sembra Non sembra vero Ed alla fine Forse è più sincero Chi vede nero Ed è troppo stressato Perché il futuro è cieco Ed il presente È già passato Il sole Dentro te stesso Ti scalda il cuore Ma il cuore Io dove l'ho messo In fondo al mare Dentro un amore Dentro un amore In cima a letto Sotto le suole Delle scarpe Delle scarpe Numero fisso Me la prendevo Con me stesso Lo so Che non risorgerò Questo non è un film E forse è meglio Che sia tutto come un lunedì Ma sì Non morirò Perché non vivo Per un like Non uso i bot Odio l'arresto Ho rifiutato Più di un posto fisso Che se sto troppo fermo Io collasso Perché ogni giorno Devo fare un passo Verso me stesso Non c'è una direzione Che mi piaccia Io sono l'acqua E il tempo E la borraccia Non vivo col terrore Non vivo col terrore Nella tasca Odio la massa E basta Sono uno stronzo Tra due minuti Già sono Sbronzo E me ne frego Della cassa Nel capitale Voglio morire Su un'astronave Asceso al cielo Non sarò il primo Sarò il secondo A finire su un vangelo Ma so Che non risorgerò Questo non è un figlio E forse è meglio Che sia tutto come un lunedì Ma se non morirò Diventeremo dei robot Coi fili Burattini Dai profili al top Grazie a tutti Ricordi Ricordi Percuotono la mente Tamburi che martellano il presente Le percussioni on the road Fermi al down low Sognavo Ma eravamo persi All'ombra di un gran canyon Filmavo con la canon Grandi film americani Nel cervello Gli uragani Non ricordo dove sia Casa mia La polizia Che rompe Sarà una fantasia Ma dammi altri giorni così Perché mi mancano Mi sento morire se non facciamo più a batte qui Dammi altri giorni così Tutto sembra intatto Tutto sembra intatto Senza un difetto Sento l'acqua nelle vene Nuotano le sirene Silenzio una chimera Liscia come cera Infiamma una preghiera Ma se tutto fosse vero Non sarebbe tutto nero Tante alighieri I carabinieri I carabinieri Le guerre di potere Economiche Barriere In condizioni estreme Siamo vivi e morti insieme Ma dammi altri giorni così Perché mi mancano le serate bianche Senza senso Dammi altri giorni così Perché mi annoio Mi sento morire se non facciamo più a batte qui Dammi altri giorni così Dammi altri giorni così Quando ho sdraiata sul tappeto Mi venivi a consolare Non sentivi la paura Era spettacolare Le passeggiate all'alba Il fresco dell'estate Per non cancellare Le ore scontate insieme Sembrerà banale La pioggia non sembra più reale Di te che sei scomparsa poco prima di Natale Adesso dentro e fuori c'è il delirio universale Ma dammi altri giorni così Perché mi mancano le serate bianche Senza senso sì Dammi altri giorni così Perché mi annoio Mi sento morire se non facciamo più a batte qui Dammi altri giorni così Tu dammi altri giorni così Tu dammi altri giorni così Sì 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 Dammi altri giorni così Dammi altri giorni così Che mi fanno bene Sì Dammi altri giorni così Una vita a quattro zampi Senza indossare le mutande E verso l'alba pancia all'aria accanto a te Vedere il sole sorgere Vorrei una vita da felino Che può restare sempre bambino E consolarmi coccolandomi con te Per poi tornare a piangere Vorrei un'alba pancia all'alba pancia all'alba Vorrei una vita a parilla con più camomilla e meno caffè E se ci sei te la vita è più bella con pane e nutella puoi rinascere Che rinascere Vorrei una vita con un po' di spray Io che la coca non l'ho presa mai Vorrei una vita a pulino bianco Ma non scambierei con nessun altro La vita di Marco Vorrei una vita a quattro zampi Per affrontarla con le unghie Sentire meno freddo, avere un altro sangue Lasciare le mie impronte in ogni istante Egnagolando piano piano Farti capire che ti amo Che non ti abbandono Non sono come un essere umano Vorrei una vita a parilla con più camomilla e meno caffè E se ci sei te la vita è più bella con pane e nutella puoi rinascere Rinascere Vorrei una vita con un po' di spray Io che la coca non l'ho presa mai Vorrei una vita a pulino bianco Ma non scambierei con nessun altro La vita di Marco La vita di Marco La vita di Marco La vita di Marco Mi mancano le ore nel traffico E la casilina nel buio la notte Mentre correvo un po' fatta senza paura di essere forte Perché l'amore impedisce la morte Perché l'amore impedisce la morte Mi mancano i nostri scherzi, i nostri sogni illusi e persi I tuoi messaggi appena svegli Perché l'amore impedisce la morte Perché l'amore impedisce la morte Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade, ma accade Perché siamo entrambi E siamo entrambi immersi in questo abisso E non so più dove andare E non so più dove andare E non so più dove andare Perché l'amore impedisce la morte Perché l'amore impedisce la morte Perché l'amore impedisce la morte L'amore è un'opportunità Prendita L'estate ti sorriderà L'amore è un'orma sulla sabbia Che tu vorresti ritrovare L'amore L'amore è il tempo che ti cambia E' il sole che ti fa sudare Ma ti manca Un po' come lei La sua felpa bianca Nei sogni tuoi Nei sogni tuoi Nei sogni tuoi Nei sogni tuoi Distanza Che porta da lei Lì nella sua stanza Lì nella sua stanza Ricordi ne hai Quando lo incontri Quando lo incontri Tra la gente Lo riconosci Dai suoi occhi L'amore è l'onda Che tu tocchi E' il sale che si sente In fondo al blu Di questo enorme mare Ci sei anche tu L'unica che so amare Forse laggiù In questa lunga spiaggia Ci sei anche tu E scende un po' di pioggia E senti che Ti manca Dolce com'era La luna che imbianca Le onde la sera Mi manca Bella com'era La gente che canta Su questa scogliera In fondo al blu Di questo enorme mare Ci sei anche tu L'unica che so amare L'amore è un'opportunità Prendila L'estate ti sorriderà Vivila L'amore è un'opportunità Prendila L'estate ti sorriderà Tutto quello che ho da dire Che non vorrei aver nulla da dire E in fondo in fondo Non vorrei neanche stare qua Le tue parole adesso Non mi sfiorano più E fidati di me A dar lezione a quel che rimane dentro di te Ho fatto errori Ho fatto errori e ne continuo a fare Cerco di buttarmi giù Ma questo quinto piano Mi impedisce di volare giù Giù Non riesco a sopportare Le giustificazioni Le mie ricerche d'attenzione Voglio farmi odiare Voglio farmi odiare Perché a volte ciò che dico Non rimane scompare Da questa mia mente surreale Da questo istinto primordiale Che non mi lascia in pace Preferirei uccidermi Per dimenticare Quest'ossessione maniacale Che mi amplifica tutto il male Mi manca il coraggio Non ne sono capace Mi manca il coraggio Non ne sono capace Di farla finita adesso Odio la compagnia Ma continuo a cercarla In ogni persona Non so cosa sia Ma non riesco a trovarla Una fantasia Sta pace interiore È una frenesia Un'invenzione che mi fa impazzire E che mi sono legata E queste catene Mi stringono gli organi Alle pareti Alle pareti E tutto quello che ho da dire E che non vorrei Aver nulla da dire In fondo in fondo Non vorrei Neanche stare qua Chissà se tutto questo Rimarrà O morirà Quando il mio corpo Se ne andrà Senza anima Vago in questa città Vuota ormai Sembra un'eternità Chissà se tutto questo Rimarrà O morirà O morirà Quando il mio corpo Se ne andrà Senza anima Vago in questa città Vuota ormai Sembra un'eternità Mi manca il coraggio Mi manca il coraggio Non ne sono capace 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 Grazie a tutti